Mazdanam Il movimento muore con i pochi seguaci che credono nella buona condotta di vita, nei rapporti di sincerità fra le persone, nella sana alimentazione, negli esercizi di respirazione, che producono un'umanità migliore. Allora il movimento non è servito a nulla. Commento Al contrario, come tutto ciò che accade è servito a produrre evoluzione in chi l'ha creato e in chi vi ha creduto.